Oh, with the sky comes falling down, for you, there's nothing in this world I wouldn't do... Si parte! Hola, Vincio! Hola! Dica, Duca! Il signor Paolo Piotto, quante storie si è perso? Almeno quattordici! Ah, io ho detto quindici! Alle sei in mezzo giù si parte, potete attraverso le sette, molto bene! Wow, prendiamo quella più bella! Ah, questa è sua, onorevole! Questa è sua! Mi pareva, non pareva... Strano che ancora non avessi tirato fuori in pezzo da 90, ecco! Cosa c'è questo posto? Al Grand Canyon! Sei contenta? Sì, per essere molto molto più pronto! Questa è circa circa ogni 15 minuti Siamo chiedendo se stiamo comandando sui posti Dimmi se è bella! Bellissima, a dir poco! Non c'era? Sì! Eh vabbè, sono gli alberi, quindi così lo posso fare! Beh, dai! Tu rocce! Che pazzo! Sessantina, sì! Secondo voi? Io volevo dire massimo dieci! Ma che?! Ma da qua l'altra cresta! 60 km da Casmea Udine! Flavia cosa ne pensi? Flavia, siamo in diretto su Italia 1, Lucignolo, bella vita! Qua abbiamo qui l'onorevole, onorevole lei in gita con il Parlamento italiano Cosa ne pensi? Le future ministre sono qui presenti! Ma ci montiamo la 360 su questa? No, non c'è tanto! Sta buono! Siamo su Tiffany Channel! Tiffany Channel! Cosa sta fotografando? Perché? No, sta facendo la panoramica! Perché una panoramica e non una foto secca? Dai! Precaro! Ah, no! Che voglio andare lì! Che da tanta parte dell'orizzonte E va a discutere! Forse stasera riusciamo a farci anche un bambino Che arriviamo in un'oraio quasi decente Forse! Forse! Ma loro non sanno che in realtà domani Ok, però tutto pezzetti siamo tutti qua ma è va avanti Domani molto peggio! This is where the heart is Of earth This is why This is why the earth is getting crazy No, but They say that this earth is gonna be going crazy Because all the weather is changing The dinosaurs The dinosaurs are gonna come back up From the depths of the earth And shake this whole place So where the society cannot even live anymore Yeah You know?